Ben trovati cari amici del Campus Lab 2018, oggi vi parlerò di Matteo Petracci. Matteo Petracci, dottore di ricerca in storia, politica e istituzioni dell'area euro-mediterranea nell'età contemporanea presso l'Università di Macerata. Ha pubblicato due libri che sono Pochissimi inevitabili bastardi, L'opposizione dei maceratesi al fascismo e I matti del Duce. Sarà protagonista della seconda giornata del Campus Lab 2018 che inizierà con una gita a discorsione a Macerata dove i partecipanti al Campus Lab, accompagnati dal professor Petracci, visiteranno l'archivio storico di Stato dove sono presenti documenti interessantissimi di cui appunto il dottor Petracci è studioso, l'argomento dedicato alla storia, in particolar modo la storia dei partigiani e all'intercultura di questa parte di storia, non nascendo in particolari perché desidero far vivere una sorpresa di partecipanti al Campus Lab, ma sono molto contento che il dottor Petracci abbia accettato il nostro invito. Io, come compaesano, anche lui viene dalla città di Macerata con me, fa molto piacere che partecipi al nostro Campus Lab. Sarà sicuramente una lezione arricchita sia dalla visita all'archivio di Stato che, come dicevo, i partecipanti visiteranno la mattina stessa del secondo giorno al Campus Lab e poi dopo la conferenza che si terrà nella nostra scuola Casterremondo ci sarà la presentazione di due libri che potranno essere poi eventualmente anche acquistati. Quindi un caro saluto, alla prossima!